Si svolgeranno in queste ore i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale in via Pietro Giuria a Voghera che versava in pessime condizioni. Grande soddisfazione da parte di Fabio Aquilini del Movimento Italia del Rispetto che si era fatto portavoce di questo disagio già dallo scorso anno. Le prime segnazioni erano arrivate nel luglio del 2014 quando in via Pietro Giuria la gente si lamentava sia del manto stradale sia del marciapiede e soprattutto le persone anziane. Mi hanno coinvolto per segnalare questa cosa, ci siamo messi in operatività, abbiamo raccolto 100 firme e le abbiamo depositate al sindaco. A un anno e mezzo di distanza nulla era ancora successo e circa dieci giorni fa attraverso una testata giornalistica abbiamo voluto di nuovo riproporre il disagio. Ed è servito perché se oggi abbiamo questa ordinanza da parte della Polizia Locale per il rifacimento del manto stradale probabilmente non è vero che la petizione viaggia nel nulla. Secondo Aquilini il tavolo di raccolta firme costituirebbe quindi un metodo eccellente per far ascoltare la voce dei cittadini alle istituzioni. Spesso e volentieri nelle nostre raccolte firme per le petizioni mi è stato attribuito un lavoro inutile in quanto non essendo in Consiglio Comunale come gruppo di maggioranza e neanche consigliere comunale nel gruppo di minoranza il mio lavoro e il lavoro del movimento è inutile. Vorrei precisare appunto che il lavoro della petizione non è inutile perché è il modo che un cittadino ha per poter esprimere il suo disagio e portarlo all'attenzione come in questo caso qua. E a proposito di petizioni, venerdì in Piazza Duomo proseguirà la raccolta firme voluta dal Partito Democratico e Italia del Rispetto per l'ambulatorio della Guardia Medica di Voghera. La petizione della Guardia Medica è in fase di costruzione perché infatti venerdì dalle 10 alle 12 in Piazza del Duomo continueremo la raccolta firme. Grazie a tutti.